Questo era esattamente quello che vi dicevo io, è inammissibile fare tutto questo turnover in una partita di Europa League del genere Pastore e Canic, titolare, insieme, mai, mai Adesso dimmi tu cosa ne pensi, ma io veramente ragazzi oggi salvo poca poca gente Ma io non salvo nessuno, è una partita pessima, io rinnovo la mia perplessità sul gioco della Roma che è ancora inesistente Cioè continuo a non vedere una squadra pronta Io non mi la metto tanto delle riserve, ma più che altro di come è stata impostata la partita Dello scarso impegno che ho visto nella squadra, perché le riserve che stanno in campo sono molto più forti che i torari del Wolfsberg Quindi io mi chiedo, qual è il problema? Cioè, non è che dico non si può pareggiare, non si può subire i gol Ma la partita si deve giocare, non possiamo stare imbariati gli avversari, quando si tratta di un avversario di questo livello insomma Però dai, adesso possiamo dire tutto, è vero, magari un pastore può essere superiore ad un trequartista del Wolfsberg Però loro sono una bella squadra e lo hanno dimostrato qualche settimana fa in Germania E proprio per questo non dico di dover mettere Dzeko, ma pastore e Canici insieme no Uno lo fai riposare per forza ragazzi, è inammissibile Abbiamo avuto due pesi morti in attacco, Canici non ha toccato una palla in 90 minuti E quando l'ha toccata l'ha tirata in curva Ma questo è infatti un difetto della Roma, cioè di come è organizzata Perché noi non possiamo, secondo me, avere le riserve e poi non poterle utilizzare, cioè è inutile Noi abbiamo delle riserve che devono essere in grado di giocare partite come questa Non è che lo può chiedere di giocare partite big match o partite fondamentali Ma partite come questa, di giro in Europa League col Wolfsberg La devono giocare pastore, Canici, chiunque Cioè, le riserve della Roma devono fare le riserve della Roma E quando sono chiamate in causa devono giocare bene Sì, sulla carta questo è vero, le riserve devono giocare queste partite di livello Sulla carta è più basso, anche se questa è un'ottima squadra È un'ottima squadra, ma la Roma è superiore Sì, senza dubbio Anche le 11 riserve della Roma, se togli gli 11 titolari, diciamo, sono più forti di loro Sì, se analizziamo la tecnica, magari sì, ma comunque oggi loro hanno giocato in una maniera strepitosa in confronto a noi Ragazzi, veramente imbarazzante Non abbiamo un'idea di gioco Non abbiamo un'idea di gioco Cioè, non è tanto dei giocatori in campo È proprio l'idea che manca Manca cosa fare Manca avere un gioco Niente Cioè, stiamo così in baglia dell'avversario E siamo la Roma Poi comunque oggi bisogna fare anche i complimenti a Mirante Che ci ha tenuto in piedi Mirante, primo tempo, due parate servitose Due sullo 0-0 Perché se no lì andavamo sotto E non si sa se poi saremmo riusciti a farlo quel gol Molto fortunoso, bisogna dire Cross di Pastore Spinazzola a prendere di testa Rimpallo Siamo stati fortunati E altro colpo di testa Siamo stati graziati anche oggi Che non è che ci meritavamo a suo pareggio Anche lì, Canic, ragazzi, palla a due passi Passa 20 cm al lato Non riesce a prenderla Canic, imbarazzante Ci ha messo la gamba giusto per far presenza Per far più e muoversi Mamma mia, ragazzi Non serviva a niente Io non voglio bocciare i giocatori Però, cioè, ragazzi E' imbarazzante Ma è altro Ma oggi è anche nulla di parlare dei giocatori Perché è proprio la squadra che non ha giocato Cioè Sì, ma Sarebbe tutte insufficenze Ma la squadra non ha giocato Perché i giocatori non erano funzionali Giusto Miranti Come tu sei stato bravo Miranti ha giocato bene Ma qualcuno mi è piaciuto Farsi per me ha fatto un'ottima partita Sì, perché mi sono proprio stufato Cioè, qua continuava a dire Chi ha fatto una buona partita Cioè, la squadra non gioca Io posso capire Ci sta qualcuno un po' meglio degli altri Ma qua il problema è grave Cioè, continuiamo a non avere un gioco Ho un'idea di gioco, capito? Sì, sì E sicuramente, ragazzi Per me Questa è l'ottima partita ufficiale che facciamo Sì E ancora stavamo a Stoliver Scusa No, niente E non in questa partita Questa partita non si è visto il gioco Però in qualche occasione l'ho visto Però ragazzi, dai Non si può mettere Lo ripeto Pastore e Canic Due morti Due sarcofagi Sarcofagi Ragazzi Imbarazzanti Due mummie Cioè, secondo me Devo pure mettere Però devono sapere cosa devono fare in campo Perché se li mettiamo in campo Se Fonseca li mette in campo E quelli stanno lì senza sapere cosa fare Da dove andare Che fare È inutile Non hanno giocato Infatti si è visto oggi Tipo per chiunque Pure Antonucci è entrato, per esempio Era deciso Poi ha fatto quello che ha fatto Non è che poteva fare niente Però Se uno entra convinto in campo Cioè, ha diritto a giocare E Pastore Canic Hanno le qualità per farlo Però devono essere supportati Dall'allenatore Da chi per lui E devono sapere cosa fare Ma così come tutta la squadra Sì, come tutta la squadra Però, ragazzi Cioè, non è proprio possibile assistere A scempi del genere Io Ve l'ho sempre detto L'Europa League È una competizione da non sdobbare Non è compromesso Possiamo ancora passare Però questa è una partita In cui bisognava fare I tre punti obbligatori Certo Perché se no Adesso andiamo in Germania Giochiamo contro il Gladbach a Roma E soffriamo E rischiamo anche di star fuori Certo Perché loro Adesso Hanno i stessi punti nostri E non è facile, ragazzi Cioè, non ci vediamo noi di passare Perché Cioè, non giochiamo Continuiamo a essere Se io vedessi una squadra giocare così Non penserei che era Roma Penserei che era una squadra Di basso livello Perché non è un gioco Cioè, la partita sbagliata capita Ma noi In otto partiti ufficiali Che abbiamo fatto Dall'inizio del campionato Tra Coppa e Campionato Io non ho visto una partita In cui sono entusiasta Del gioco Tutte le partite sciabe Qualcuno è un po' meglio Qualcuno è un po' peggio Che tra l'altro Mi sembra Che stanno andando sempre peggio Invece di migliorare Sì, effettivamente Sta una parabola Riccedente L'Europa Ragazzi Ve lo sto dicendo L'Europa League Non è da snobbare Oggi Fonseca Ha sbagliato Io sono un amminatore di Fonseca Però quando sbaglia È lecito Giusto ammetterlo E criticarlo Non in generale Non per la sua carriera Ma oggi Ha sbagliato Oggettivamente Perché Poi se ne è accorto Gli ultimi dieci minuti Ha fatto tre cambi insieme Ha messo dentro Veredu Cosa l'ho fai Antonucci Per cambiare qualcosa Ma Ormai è tardi Il tempo Non c'era Non si cambia Una partita Gli ultimi dieci minuti Purtroppo Magari Magari avessi Quelle qualità per farlo Ma noi non ce l'abbiamo Dobbiamo essere più umili E la partita si deve Impostare bene Dal primo minuto Io sono In leggero disaccordo Con te Cioè Fonseca ha le sue colpe Però secondo me Non ha sbagliato Tanto i giocatori Che ha schedati in campo Perché È giusto dare più importanza Secondo me Al campionato E Ancora In questa fase prematura Dell'Europa League Dove le squadre che incontriamo Non sono di alto livello Si può far giocare Gli giocatori Che noi consideriamo riservi Ma sono giocatori di qualità Comunque Cioè Pastore Canici Sono giocatori che Sono perfettamente in grado Di giocare una partita del genere Questa all'allenatore E alla loro motivazione personale Di fare una bella partita Sapere cosa fare Però non è questione dei giocatori Perché tanto Abbiamo visto tante partite brutte Quest'anno Anche con tutti gli idolari Scherati in campo Sì sì Però ragazzi Oggi Partiamoci chiaro Se ci fosse stato in campo Dzeko Se ci fosse stato Golo Finiamo in un altro modo Io sono convinto Di quello che dico Potrebbe essere Potrebbe essere Ma non è giusto Essere costretti A far giocare tutti i titolari Quando abbiamo tante riserve Facciamo giocare tutti i titolari Perché Perché se no La squadra non gioca Tutti i giocatori E il turnover è giusto Specialmente quando si gioca con queste squadre E c'è proprio il campionato Il turnover sulla carta è giusto Però tu devi avere i giocatori per farlo Se No No Non li hai Sai qual è il problema? Che già Abbiamo L'infermeria piena E io ancora non riesco a capire il motivo Se qualcuno sa O vuole avanzare qualche ipotesi Lo scriva nei commenti Perché io continuo a vedere Ogni campionato dopo campionato La Roma Che già delle prime giornate Cambiamo tutto Cambiamo fisioterapisti Preparatori atletici La storia è sempre la stessa E si ripete sempre la stessa storia E questo rimane un mistero E sicuramente incide questo sulla Roma Perché i giocatori che mancano Pesano parecchio E quindi A maggior ragione È giusto far riposare I pochi titolari che abbiamo Quelli che magari riteniamo più importanti E preservarli per il campionato Perché qua se continuano a farsi male La stagione la finiamo a primavera in campo Si fanno tutti male Poi Adesso Molti Penso quasi tutti Anche Paolo Lopez Da poco Sono infortuni muscolari Però Pellegrini è un'altra cosa Pellegrini è una frattura Del metatarso Va bene Un'altra cosa È sfortuna quella Facciamo gli apuri Per pronta guarigione Speriamo Due mesi Più o meno 60 giorni Era previsto Il suo rientro Però ragazzi dai Per me i giocatori sulla carta Li devi avere Ma non li hai Non si sa se è frutto Del mercato sbagliato da Monci Perché Pastore è indegno Non si sa se è frutto Dell'acquisto di Canic Che attualmente È tornato il peggior Canic del Milan Ed oggi Fonseca Mi ha ricordato Il peggior Spalletti Quello che mise a Lione Quello che mise a Lione Pareres e Sharawi Al 92esimo Proprio per prenderli in giro E il peggior Spalletti Che quando mise Sempre contro un'austriaca Contro l'Austria-Vienna Tutta la squadra Tutta la squadra di riserve Tutta Dal primo Da Alisson Che era una riserva A Gerson A giocatori Che non aveva mai considerato E infatti Pareggiamo 3-3 all'Olimpico C'è poco da dire Io Rinnovo il mio disappunto Su questa squadra Su la gestione Perché Fonseca Diciamo che In queste prime partite Mi sta deludendo Non è Non è che sto bocciando Perché in realtà Ci sta tempo Con il pareggio di oggi Non abbiamo compromesso nulla Perché si può recuperare a tutto Ma non è tanto il risultato A preoccuparmi Ma La qualità del gioco Che vedo Le cose che vedo in campo Che sono seriamente Preoccupanti Perché Non è solo la partita di oggi È tutto l'insieme È come ci siamo arrivati Alla partita di oggi Ancora non riusciamo A avere un'ideologia Di gioco E questo è grave La cosa che più mi preoccupa È che per me La Roma deve O almeno può Può Usiamo Un altro verbo Può vincere l'Europa E su questo non ci piove Ma noi rischiamo Di stare fuori i gironi Se giocavamo così È anche giusto Ma è assurda Come cosa Il girone era tosto Io ve l'ho detto Dal primo giorno Tu mi eri molto d'accordo Però Io ve l'ho detto Dal primo giorno Che per me il girone era tosto Però ragazzi Si doveva passare Ma io vuol dire Non essere d'accordo Il girone non è per niente tosto Per la Roma Cioè La Roma Se gioca da Roma E che non è Non so parla del Barcilano Siamo parla della Roma Il girone È un girone Alla portata Lo dico Con estrema convinzione Ma se noi giocavamo così Con qualsiasi squadra Avremo difficoltà Perché così Vuol dire non giocare Non è che vuol dire giocare male Questo vuol dire non giocare Ci sono stati qualche Giusto qualche sprazzo buono Di Clevert Che perché Si è impegnato Ci ha provato Ma è una partita pessima Una partita da dimenticare Perché non è riuscito A Suo malgrado A fare niente di buono Per il resto È una partita sciapissima Ma Gli austriaci Il Wolfsberg Lo ritroveremo All'ultima giornata L'Olimpico E in mezzo Ci saranno due trasferte Delicatissime Una in Germania E una in Turchia Non oso immaginare Quello che possa succedere A Istanbul Ragazzi Lì Si deciderà Il futuro Che da Roma Il fattore ambientale Potrebbe giocare Il brutto schesso Tantissimo Ragazzi Lo stadio gioca già Mezza partita Praticamente Ragazzi Il video Penso possa finire qua Abbiamo detto Quello che pensavamo Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace E passate tutti i link In descrizione Ciao Ciao a tutti Forza Roma